Presidente Busillo, oggi Coldiretti Salerno e Camera di Commercio presentano questa guida delle vie degli agriturismi, 50 agriturismi della provincia. Con quale filosofia presentate questa iniziativa? Questa è una filosofia di Coldiretti, mettere in rete le imprese per rispondere ai bisogni dei territori. È evidente che questi territori, che sono eccellenza a livello nazionale e internazionale, possono anche attraverso l'eccellenza enocalastronomica dare una risposta occupazionale, ma anche una risposta alla fruizione turistica dei nostri territori. Perché oggi si sceglie un agriturismo e non un albergo normale? L'agriturismo si sceglie perché uno sta innanzitutto accanto, vicino alla natura, è l'elemento oggi dominante, tant'è che anche a livello scolastico noi vediamo che tutte le scuole che hanno questo indirizzo agrario e agronastronomico sono tenute in considerazione dai giovani perché ritengono che il futuro è sotto i nostri piedi. Non lo dico io, lo dicono importanti soggetti internazionali, da Steve Jobs ad altri che evidentemente hanno deciso che probabilmente anche a livello nazionale, a livello globale, l'agricoltura può sicuramente dare un futuro. E quando parliamo di soggetti che hanno fatto la storia della tecnologia negli ultimi anni, questo la dice tutta sulla grande potenzialità dell'agricoltura e del territorio.